Sono 43 i soggetti firmatari che si propongono di dare una svolta al problema della sicurezza e della legalità nel mondo del lavoro. Sindacati, regione, parti datoriali, IMSS, INAIL, Ufficio Territoriale del Lavoro, casse edili, associazione mutilati e invalidi. Di fatto una rete che copre i molteplici versanti in cui si declina la funzione lavoro. Nel 2018 il Friuli Venezia Giulia ha visto un'impennata degli incidenti in ambito professionale, più 4% rispetto al 2017 con 11.376 casi di cui 21 mortali. Il protocollo prevede attività di monitoraggio e controllo più stringenti, programmi di comunicazione e valorizzazione delle buone prassi e contrasto al dumping sociale. A quelle pratiche cioè che riducono i costi bypassando i diritti e le tutele contrattuali dei lavoratori. È un tema trasversale e riguarda in maniera particolare la formazione, tant'è che la scorsa settimana abbiamo approvato la legge sull'istruzione nella quale per la prima volta mettiamo all'interno delle scuole l'insegnamento della sicurezza sul lavoro. In ambito nazionale invece CGL e Cisle Will hanno siglato con la Confindustria un'intesa sulla salute e la sicurezza orientata a ricomprendere le nuove, a volte poco trasparenti, parcellizzazioni, frammentazioni della produzione. Quindi i complessi intrecci dei subappalti ed anche lo smart working, tradotto eufemisticamente come lavoro agile, un'agilità che può diventare sfuggente. Soprattutto nelle realtà degli appalti, dove lì la tensione è sempre minore, dove la formazione dei lavoratori non viene quasi mai fatta, dove gli investimenti sono pochi e quando c'è l'obsolescenza degli impianti e dei macchinari vuol dire provocare incidenti sul mondo del lavoro.